E allora quest'anno sono tornate le gite! Ma io non ho portato via nessuno quest'anno, eh, ve lo dico! Allora io ci sono, ma non è che mi metti col collega che non so neanche portare fuori il cane, vero? Proposte, Napoli, Budapest, Assisi, Terranuovo dei Passarimi! Ma scusa, 5 giorni per visitare Assisi? Come sempre, 3 giorni di visita e 2 a non far niente! Mi raccomando, eh, non troppi musei che mi fanno male i piedi! Un periodo di partenza, ecco direi ovviamente marzo! Ecco che è il mese degli imbalzi, che le quinte fanno le tesine, dei colloqui! Ciao Mario, vieni come in gita a Napoli! Quella! Io ve lo sto dicendo adesso dalla segretaria e abbiamo bisogno di tutte le autorizzazioni entro un'ora! Noi non rincorriamo nessuno! Non abbiamo neanche deciso dove andare, vieni un po' alla DSGA! Wey, hai bisogno della segreteria? Morti! Ha bisogno loro? Subito! E se non ancora, Berlino, Praga, Parigi, la città dell'amore! Sì, con quelli di terza che si ammazza!